Aumenta la tensione tra il Regno Unito e l'Unione Europea, Bruxelles ha avviato un'azione legale contro Londra dopo che il governo britannico ha deciso di ritardare l'attuazione dei controlli sulle merci che attraversano il mare d'Irlanda. La mossa del Regno Unito viola l'accordo sulla Brexit firmato solo tre mesi fa. In una lettera inviata a Londra, la Commissione Europea afferma che sono state compiute violazioni del diritto internazionale da parte del Regno Unito che vanificano lo scopo stesso dell'accordo e minano la fiducia reciproca. Nella Repubblica d'Irlanda la decisione di avviare un procedimento giudiziario è stata accolta con riluttanza. Azioni unilaterali non porteranno a nulla. Ciò di cui abbiamo più paura in Irlanda è una situazione destabilizzante. La Brexit è il grande destabilizzatore e l'azione del governo britannico dell'ultima notte ha reso la situazione ancora più difficile. Un portavoce del primo ministro britannico Boris Johnson afferma che la mossa per ritardare l'introduzione dei controlli alle frontiere tra il Regno Unito e l'Irlanda del Nord per cibo, pacchi e animali domestici fa parte del processo di attuazione di un trattato legale e non giustifica un'azione legale. Entrambe le parti affermano che intendono discutere le divergenze presso il Comitato Congiunto che sovraintende l'accordo sulla Brexit. La lettera dell'Unione Europea a Downing Street richiede una risposta formale del Regno Unito entro un mese. Questo è solo l'inizio di un processo che potrebbe portare il caso davanti ai giudici della Corte di Giustizia Europea, uno scenario sgradevole per i fedeli sostenitori della Brexit nel Regno Unito.